Per quanto riguarda l'offerta di lancio, la gamma della nuova Yaris Cross, grazie ai nostri WeHybrid Bonus, partirà nella versione Active da 22.650 euro, con un vantaggio cliente che può arrivare su altre versioni più alte di gamma fino a 4.250 euro. Non manca ovviamente l'offerta finanziaria, con una rata a partire da 189 euro per la versione d'ingresso e 2.10 per l'allestimento cuore di gamma, appunto la versione Trend. E allo stesso modo anche la nostra captive di noleggio, Kinto, ha una sua proposta di lancio, un canone da 2.69 sempre per la Active e poi da 2.90 per la versione Trend. Ma non c'è solo il prodotto, lo schema è molto più articolato intorno a Yaris Cross, c'è anche un ecosistema nuovo, più evoluto, che definisce in aggiunta un livello di assoluta competitività e unicità nell'offerta al cliente. E questo è il mondo di WeHybrid. Con Yaris Cross noi vogliamo portare l'ecosistema di WeHybrid, che abbiamo lanciato l'anno scorso con la Yaris, a questo punto ad un livello superiore. Ricordiamo il contesto nel quale abbiamo sviluppato questa riflessione esattamente un anno fa. La competitività del mercato, che è sempre crescente in termini di elettrificazione. Una mutata esigenza, allo stesso tempo, del cliente, che è sempre più conscia, responsabile e consapevole. E poi ovviamente la chiara necessità, il chiaro interesse e obiettivo da parte del nostro brand di avvalorare la nostra leadership nel contesto dell'elettrificazione. Questa riflessione, questo contesto rimane invariato. E anche l'equazione rimane sempre la stessa. L'equazione che abbiamo definito per il cliente all'interno dell'ecosistema WeHybrid, cioè che è quella di massimizzare la performance in elettrico, con la sua guida responsabile, che ovviamente determina dei vantaggi per l'utilizzatore, dei vantaggi concreti. E l'obiettivo è quello poi, per noi, ultimo, di generare advocacy per il nostro brand. Allora, a questo punto, noi abbiamo sviluppato e migliorato il sistema WeHybrid, abbiamo realizzato la versione 2.0. È un ecosistema, oggi, molto più ricco, di nuovi touchpoint, con l'obiettivo di rendere sempre più cross, sempre più trasversale l'offerta di servizi al cliente, ovviamente andando anche a complementare con aree di business alternative, rispetto a quelle che avevamo messo in piedi un anno fa. E l'obiettivo è sempre quello di ampliare al massimo la community sociota e di renderla sempre più soddisfatta. E allora vediamo nel dettaglio questi nuovi servizi. Quindi, nell'ottica di generare un'offerta a 3,60, adesso includiamo anche il prodotto finanziario, oltre, ovviamente, all'assicurazione, al service e anche alla scuola, alla Toyota School. Il tutto va sempre più raccontato al cliente come un'offerta inclusiva, dalla quale il cliente deve ricavare il massimo vantaggio. L'esperienza cliente, poi, è fondamentale e per questo motivo abbiamo lavorato per renderla ancora più ricca, ovviamente, con nuovi touchpoint, ma poi anche più facile e più integrata possibile. Vediamo adesso il calendario di lancio. Queste che vedete sono le tappe fondamentali del lancio di Yaris Cross. Apriamo i listini a luglio di tutte le versioni. L'arrivo in concessionaria delle prime vetture è previsto a partire dal mese di settembre, con la possibilità, ovviamente, di prove su strada e di unità in esposizione. Yaris Cross è di fatto l'ennesimo prodotto di svolta di Toyota. Per noi esisterà un prima e un dopo Yaris Cross e siamo certi che questo modello riuscirà a ritagliarsi all'interno di un segmento altamente competitivo, quale quello del BSUB, un ruolo da protagonista assoluto. Grazie a tutti per l'attenzione.